Negoziatore sul posto 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 Non ne ho idea È importante Mi servono informazioni per stabilire l'approccio Ha subito qualche shock emotivo di recente Senti Salvare la bambina è ciò che conta Perciò o ci pensi tu a questo androide O ci penserò io No 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 Grazie a tutti. 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 Torni ormai. 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 Non stai per morire. Non stai per morire. Non ti succederà nulla. Hai la mia parola. Ok. Mi fido. Mi hai mentito. Mi hai mentito. Mi hai mentito. Torni ormai. 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 Grazie a tutti